Il nome dell'iniziativa è curioso ma l'obiettivo di Onion Pride è chiarissimo rimettere la cipolla al centro della fiera dei Santi Pietro e Paolo proponendo una serie di prelibatezze gastronomiche in grado di esaltare il sapore della regina degli ortaggi Sernini. Un'idea nata con la nostra amministrazione comunale per ridare centralità a quello che è il prodotto agroalimentare d'eccellenza del territorio pentro ovvero la cipolla bianca di Sernia. L'anno scorso in collaborazione con la Proloco città di Sernia e con Molisanissimo abbiamo deciso di istituire all'interno della fiera un evento particolare al nome Onion Pride della sfida gourmet della cipolla di Sernia. Questo per consentire ai tanti turisti che visitano la nostra bellissima fiera il 28 e 29 di giugno di poter degustare delle pietanze dall'antipasto al dolce interamente fatte a base di cipolla bianca di Sernia. Sarà possibile degustare prodotti a base di cipolla sia a pranzo sia a cena rispetto all'edizione precedente si è pensato di ricalcare almeno in parte la filosofia dello street food. Troveranno dalle polpette baccala e cipolla la focaccia con frittata con peperoni e cipolla, una zuppa di whisky alle cipolle, trippa con le cipolle, ci saranno dei cannelloni, ci sarà addirittura una birra che avrà un sentore particolare che non sveliamo perché è solo da assaggiare. L'anno scorso è andata molto bene e quest'anno partiamo da lì, cerchiamo almeno di ripetere l'esperienza dell'anno scorso e poi mano a mano che si va avanti con gli anni di andare sempre meglio. Lo stand sarà aperto nello spazio esterno all'auditorium sul lato che dà su via Giovanni XXIII. Giovedì sera, prima giornata della fiera, sarà inoltre possibile assistere al concerto dei Patrios, gruppo molisano che impiega gli strumenti della tradizione adattandoli alle sonorità moderne. Il 28 e il 29, a partire dalle 18, per i più piccoli sarà organizzato uno spettacolo di burattini, mentre la fiera vera e propria prenderà il via giovedì mattina. I venditori di cipolle, muniti del bollino blu che contraddistingue prodotti alimentari tradizionali, saranno collocati come sempre di fronte all'ingresso principale dell'auditorium. Nonostante le difficoltà, portano avanti con orgoglio questa tradizione. Tra gli ortolani ci sarà anche la signora Maria Battista, che ha da poco compiuto 93 anni. Da quando sono nata ho fatto sempre questo mestiere, mi piace e l'ho continuato a fare. Da quanti anni partecipa alla fiera delle cipolle? Da parecchi anni, da parecchi anni ho fatto sempre questo mestiere. Faceva pure qualche altra cosa, però questo mestiere non l'ho lasciato mai.